Però capisci no? Quello che intendo. Allora, abbordaggio navi. Ci arriviamo? Non ci arriviamo. Ok, devo andare un pelino più avanti. Questa è la nostra... aspetta, adesso non è che fa effetto rubber band, no? No, 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 solo all'inizio, solo all'inizio. Direi che qui possiamo parcheggiarci. Loro, raga, non se l'aspettano manco. Uno, due, tre e c'è che è morto. Entra nella stiva, esattamente quello che farò, amico mio. Vediamo un po' se c'è gente che ci aspetta. Uh, vedo già un letto. Già una cosa che io non ho creato. E già mi piace. Allora, facciamo uno sneaky a bordaggio. E già il pirate captain, se è accorto della nostra presenza. Qui tocca stare attenti, raga, perché mi sa che... mi sa che in questo tipo di vascelli c'è un sacco di gente. Allora, quindi possiamo spaccare queste mattonelle. Un letto ce lo portiamo dietro. Quindi qui non c'è niente, zona è sicura. Ora, tiriamo fuori la spada. Blocchiamo l'entrata. Perché già vedo una persona lì. Si sa se possiamo ucciderla da qua. Amico mio, sei fregato, sei fregato. Cioè, lui ha bevuto la pozione di regenerazione, mamma mia. Comunque devi prepararti il backpack prima possibile. Ti manca solo la pelle. Vediamo se riusciamo a trovarla in questo dungeon. Non dungeon, però dai, ci siamo capiti. Allora, come prima chest, direi non male. Direi non male. Allora, abbiamo il room, ce ne abbiamo un sorso. Anche se nella puntata precedente, innanzitutto, a voi chat, cin. Abbiamo detto che è un pochino i cheating, perché guarda lì quanti cuoricini dà. Però dai, siamo all'inizio. Siamo ancora nel test run, ok? Qui ce ne sono due. Cerchiamo di ammazzarli entrambi con molta facilità, perché noi siamo dei pirati bastardi. E quindi blocchiamo tutte le vie d'accesso. Ma soprattutto giochiamo con intelligenza. Oh! Parlando di intelligenza. Sì, 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 ma noi, raga, siamo schillati. Ha fatto un flip. Un 360. Dovevo andare? Dove? Peccato che non lasciano cadere niente questi... questi ragazzuoli. Allora, facciamo così. Una cosa molto intelligente. Prendiamo i blocchi e blocchiamo certe stanze, in modo che ci concentriamo solo su una alla volta. Cicci10, grazie mille per il follow. Sono contento che ti stia piacendo lo show. Allora, abbiamo bloccate tutte e possiamo concentrarci sul di dietro. come piace parlare a noi pirati. Torce, sì, 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 sì. Me ne sono accorto che era un pelino scuro. Aspetta, la posso mettere nell'altra mano? Sì, ok. Qui non c'è nessuno. C'è una chest. Oh! Tutto quello di cui avevamo bisogno. Praticamente è meglio di vedere una chest piena di... piena di diamanti, guarda. Anche se è tutto crudo. Quando la fame c'è... Non lo so, ragazzi. Sono riduce di un corso HACCP. Aspetta. E quindi posso dire con... con abbastanza sicurezza di mangiare crudo solamente se è trattato per bene. Ma noi non siamo qui per parlare di HACCP perché altrimenti sarebbe uno stream molto noioso. Comunque mi ha fatto morire... No, di questa cosa la devo dire. mi ha fatto morire da ridere l'altro giorno. Che c'era il corso online con... a seguire un... un esame a crocette. Non ho ascoltato niente di quella lezione. L'ho passato con 29 su 35. Il minimo... C'è un sacco di gente. Il minimo era di 20. E quindi proprio... Cioè, figurati. Mentre lui parlavo io stavo facendo streaming. Io mentre ascolto la live scarico il pacchetto da Twitch. Ah, bravo Francesco. Adesso che mi fai... Mi ci fai pensare. Innanzitutto distruggiamo questa perché so già che mi metterai bastoni tra le ruote. Ok. Ok. La nostra tecnica è questa. Ci nascondiamo dietro un blocco e pian piano li facciamo fuori tutti. Se avevamo le asoppe, guarda. Faccevamo il ride proprio potente dall'alto che avevamo. Mi buttavo dall'alto direttamente sul deck, sulla barca, con tutte le asoppe dietro. E c'era asoppa che... Con l'arco e tutte le frecce. Però scusate, probabilmente era un sacco rumoroso quello che ho appena fatto. Dicevo che sul gruppo Discord, se volete aggiungervi siete un sacco di benvenuto. e benvenuti. C'è il procedimento passo a passo. C'è che succidi il captain senza morire e faccio l'abbonamento. Il procedimento passo a passo per poter installare il pacchetto vita alla pirata. Quindi ci potete giocare anche voi. È un pacchetto... Adesso noi stiamo andando un pochino lenti perché abbiamo appena cominciato. Però è un pacchetto molto interessante perché ci sono un sacco di boss, un sacco di mostri marini anche e quindi abbastanza anche lunghezza. un pacchetto come durata. Allora. Ci siamo, no? Non c'è... Ho un sacco paura perché se innanzitutto mangiamo manteniamo le nostre cosce di pollo alte. Perché se c'è uno con la tuta in diamante secondo me ci fa fuori in un secondo. Dunque questi penso che siano i bagni. Ma ascolta, io non posso craftare un... un accendino. No, vero? Serve il... La pietra lavica lì. Come cacchio si chiama? Quella che trovi nella ghiaia. Allora. Blocchiamo le entrate. Nel caso ci fossero persone brutte, cattive. Eccole, infatti, 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 tre, tutte di un passo. Comunque dicevo che David Loca ESL, il ragazzo alla quale ho fatto il shout out prima cantando, ha pubblicato passo per passo le modalità con cui potete scaricare ufficialmente, quindi senza download vari o port... o mirrors, quindi legalmente, assolutamente, e il pacchetto vita da pirata. Forse l'avevo già detto ora che mi si fa pensare. Guarda come tryhard per l'abbonamento. Raga, tutto per l'abbonamento. No, scherzo. Sto solo cercando di giocare bene perché giocare male direi che quella parte l'abbiamo già... l'abbiamo già completata, vero, raga? Y in chat se siete d'accordo con me, se siete d'accordo con me. Soffietta 90. Grazie mille per il follow, amica mia. N. E quindi... quindi quello che mi stai dicendo, menti e bug, è che secondo te non abbiamo giocato male abbastanza e che possiamo far di peggio. No, 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 scherzo, scherzo. Comunque è illegale avere così tante persone su una nave, cioè... come facciamo ad arrivare al capitano di sto passo? Fanno anche male, è quello brutto. Il Delfino Curioso, benvenuto nella chat, amico mio. Come stai? Comunque il Delfino Curioso fa parte dei ringraziamenti che dovevo fare all'inizio. Ha fatto un server Discord della miseria. E... dove tutti dovreste metterci... metterci piede perché è veramente figo. Quindi complimenti al mio Delfino Curioso. Che mi ha fatto divertimento. Fatti una spada di diamante e non ne avevi trovati. Aspetta, adesso che mi ci fai pensare... Ne avevo trovati... Ne hanno trovati un paio, però mi sa che li ho lasciati alla base pirata. Hashtag bad streamer, comunque. Allora, qui due vie d'entrata non ci piacciono e non ci sono mai piaciute le due vie d'entrata. Quindi blocchiamo subito una e ci concentriamo su un altro. Raga, try hard. Il tuo abbonamento sarà mio, Gassi. Allora... Però dovrei... Hai detto dovrei uccidere il capitano pirata, vero? Ma ce la facciamo noi, siamo dei pro streamer. Fammi mangiare del pesce crudo, voilà. Vabbè, del dubbio continuo a guardare la live di Cech. Bravo, bravo. Così che si fa. Ma qui non c'era un nemico da qualche parte? Due? Ma nella scorsa stream qualcuno mi ha detto che è possibile anche crearsi un bello scudo. Una cosa che mi piacerebbe fare è che riterrei molto utile nello scontro contro il capitano. Sì, ok, 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 ok. Allora dopo lo facciamo. Dopo che sconfigo sti due. Ci prendiamo un secondo di... Scusate la faccia scostipata, però è quella... è la mia faccia try hard. Sì, vabbè, metti tutte le torce che vuoi, ragazzo mio. E quindi ci facciamo uno scudo. Andiamo a vedere come funziona. Innanzitutto non dovrei sprecare tutto sto legno, però adesso che ci penso siamo in una nave completamente fatta di legno, quindi direi che non... Il problema non si pone. Allora, e... Shield. Shield. No, non si scrive così. Ok, shield. Vediamo un po'. Quindi abbiamo... Sei legni e un iron on top. Easy peasy. Lemon squeezy. Chi è che mi followa? Michelinus 99. Grazie mille per il follow, amico mio. Benvenuto nella chat dei pirati di Capitano Jack. Aspetta. Cosa sta succedendo? Spero che sia un acqua creeper questo. Fai... Non ci credo. Che cosa? Ah, che sono sopravvissuto. Ok, quindi il tasto destro copre. Chiaro. E... Col tasto destro si para. Sento dei passi e non mi piace la situazione. Però dovrei craftare adesso un... Una spada perché la mia si sta per rompere. E non avendo ancora trovato dei diamanti, andiamo con l'iron. Come prima. E voilà. Si mangia e si riparte. Menti da pagare? Twitch? Ber... Zoten? Cosa è successo? Evitiamo bestemmia? Ah, ok, ok. Grazie mille. Grazie mille, Menti. Non me ne ero accorto. Vedi che alla fine ho fatto bene a farti mod. Comunque, Menti, il designer insomma del canale è stato moddato per via del supporto assolutamente grande che ha dato in tutte le stesse settimane e che continuerà a dare. E' un sacco motivato quel ragazzo, guarda. Bravissimo. Allora, qui non c'è nessuno, abbiamo ucciso tutti. Prima parte della nave è fatta, direi. Quindi, creiamo altri blocchi che ci serviranno per fare strategie. Del tipo quella e questa. E... Arriviamo alla parte seria. Oh mio Dio, quella c'ha una pistola. Non posso colpirla da qua, vero? C'ha una pistola. Perché c'hanno tutte le pistole e io no? Ma soprattutto, quanta gente siete? Scusate. Vabbè, dai. Raga, senza mani. Con una mano sola. Ma io me lo ricordo, sta nave, il capitano non era tipo quello invisibile. E... Aspetta. Hai lo scudo, sì, 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 ma... Soprattutto... Più dello scudo ho il cervello. È che è un... È un bad design da parte del... Della chocolate. Cioè, oddio, non lo so. Perché come fai ad aggirare una roba del genere? Cioè, uno può stare qui tutto il giorno a guadagnarsi le sub dei suoi... Dei suoi... Dei suoi... Dei suoi visualizzatori. Chi è che era, Gassi, vero? Gassi, preparati alla sub, eh? Anche se si tratta del capitano. Eh, il capitano, dai. Forse è un pelino più difficile di sti marmocchi. Per chip. Vedere il capitano tornare a bordo è una gioia. Forza, capitano. Quello che vorrei fare assolutamente in questo momento è dar fuoco all'intera nave. Vorrei avere tipo l'accendino in questo momento. Peccato che non ho trovato la... La flint lì, la pietra focaia. L'ascia fa più male comunque, ma è più lenta. Davvero? Ah, è vero. È un pelino più lenta, però se fa più male... Alla fine forse ci guadagniamo anche un pelino di tempo. Comunque mi sono accorto che io prima non ho dato la perla di saggezza, eh? Come posso lasciarvi senza la perla di saggezza giornaliera, raga? Non sarei un bad streamer, altrimenti. Ma è un galeone, perché sembra di sì. Quindi, perla di saggezza del giorno. Qual è la perla di saggezza del giorno? L'ora degli annunci. Allora, interruzione pubblicitaria perché qualcuno ha riscattato l'ora. Degli annunci e... Torniamo con una perla di saggezza. Raga, non è colpa mia, ok? Intanto ci penso, per quelli che hanno adblock che è... Come fino a... Ah, fino a me erita è Pier Giorgino che diceva l'ora. Aspetta, fammi pensare. Allora, in questo caso andiamo a mangiarci un paio di patate. La perla, no? Pier Giorgino, te la do la perla. Aspetta, aspetta un attimo. Aspettiamo i 40 secondi per pensare alla perla di saggezza. Aspetta. Ce l'ho, ce l'ho e questa qui è anche bella. Aspetta. 30 secondi, raga, arriva la perla di saggezza dell'anno. Proprio. Quindi preparatevi. Allora, per la sopposa di check, per la sopposa di check. Allora, aspetta, eh. Qui andiamo sul mio 10 secondi, ci siamo. Mi dispiace per l'overlay che verrà scazzato un'altra volta. Questo cosa sono? Sono io? No, ancora l'overlay. Allora, questo sono io. Eccoci, ragazzi. Why do I hear boss music? Raga. Questa qui è una perla di saggezza che mi è stato detto dal mio chef qualche anno fa, ok? Quindi lui l'ha detto a me e io la tramando voi. Preparate la clip. Raga, i dolci sono come le donne. Vengono bene se gli dai il giusto tempo. Mic drop. Ok, sì, comunque stavamo parlando di dolci. Dicevo, perché chef non mi viene il mascarpone? E lui mi prese e mi disse, guarda, check. I dolci sono come le donne. Se tagli dal giusto tempo vengono tutte. Aspetta, forse era questa la perla di saggezza. Ed era anche più divertente. Madonna che perla. Qui facciamo fuori tutti. Perciò amo i dolci. Oh mio Dio che è fraintendibile, sì. In effetti. Ecco perché odio le porte. Senti qui che rumoraccio. Fortuna che l'abbiamo distrutta. Comunque sì, perché io facevo i dolci, però mettevo sempre il mixer al massimo. E venivano una pagina incredibile. E quindi dopo ho detto, chef, se salti e colpisci un attimo prima che atterri, fa in colpo critica. Così? Oppure devo correre? Ah, forse devo correre, vero? Raga, quante cose che mi state dicendo? Mamma mia, mi ha colpito, mi ha tolto metà... Mi ha tolto metà vita sto ragazzo. Quello che colpisco con un salame crudo. The ultimate BM. Basta che salti, ok. Quindi anche così per dire. Giusto? Senza correre. Questa può essere un'informazione utile nel PvP, giusto? Per esempio su un Minecraft server. Comunque raga, mi è appena venuta un'idea abbastanza fenomenale. Perché dopo invece non saltiamo tutti su un Minecraft server tipo Hide and Seek e ci giochiamo? Nope, è inutile, è fastidioso. Solo colpo caricato funziona però. Così facciamo un pochino di... Allora, innanzitutto dovrei craftare un'altra axe. Che questa l'ho finita. Allora, la crafting table l'ho lasciata giù naturalmente perché sono un capitano un po' disordinato. Te non mi servi. E? Perché ne ho già uno sulla testa. E ne craftiamo un'altra al volo con tutte le cose che ho rubato su questa ship. Let's go! Ci sta, incomincio a... Di scaricare Minecraft e Optifine. Sì dai, dico, perché no? Uh, quello scudo. Lo voglio io, assolutamente. Oh mio Dio, dove sono i blocchi? All'ultimo raga. Adesso scommetto che quello che ha detto che... Che si sarebbe sabbato dopo il capitano è andato via, è scomparso. Non ne voleva sapere niente. Sì, tipo Hide and Seek. Facciamo un giochino dopo quest'ora di stream. Che comunque non durerà ancora molto eh. Però voglio conquistare questa nave. 1.12.2 Ah, mettiamo la... È un asopo fedele. Mettiamo la... L'ultima versione, la 1.15. Anche perché mi sa che altrimenti non parte. Allora, ne ho uccisi tutti? Allora, questi due cerchiamo di... Ecco, se non mi ricordo male, qui c'è un punto dove potrebbero spawnare. E noi lo blocchiamo subito. Sperando che non possano saltare sopra questa fence. Anche se... Ora che ci penso potrebbero farlo. Guarda, non vi dico neanche cosa mi è sembrato che avesse in mano questo... Questo mob. Lasciamo perdere il discorso, per favore. Ninja Go. Ninja Go? Come on, come on, come on. Cos'è? È tipo un server Ninja Go? Ninja Go? Dai, amico. Oh! Ok. Ok, ok, ok. La facciamo... Ecco. Raga, bisogna usare il cervello alcune volte. Questa è un'altra perla di saggessa. Ok. Ok.